Sesta 3 continua per cento, sinistra 6 possibile salto cento, sinistra 3 in media sessanta, sinistra 6 in media sessanta, sinistra 4 in curva, sinistra 5 in media sessanta, sinistra 2 si restringe e diventa 1 sessanta, si apre il sessanta, sinistra 5 lunga su crinale, destra 6, sinistra 6 continua su salto, attenzione sinistra 6 salto stai al centro, sinistra 6, in destra 5 non tagliare sessanta, curva destra 2, curva destra 3, destra 3 in media sessanta, in bossa vento, in sinistra 3 lunga, qui destra 5 lunga, tornante destro 60, tornante sinistro, sinistra 3 lunga non tagliare sessanta, sinistra 4 lunga su crinale, stai all'interno e destra 6 sessanta, attenzione tornante destro 100, metto, metto, sinistra 6 e destra 6 su crinale, 60, 100, di